Il libro parla di scelte perché l'economia è la scienza delle scelte, nel senso che per me economia significa andare a investigare le determinanti che spingono una persona, una società, se stiamo parlando di scelte sociali, a fare determinate scelte, a prendere una determinata decisione. Sulla riconoscenza, in realtà l'economia dice molto, è stata citata la tradizione dell'economia civile, in Italia ci sono economisti d'avanguardia in questo rispetto, Luigino Bruni, Stefano Zamagni, che si occupano da anni, da decenni di economia civile, facendo riferimento a... E anche di economia della felicità, quindi in qualche modo sono collegati. Però la riconoscenza è un elemento determinante. Lo è, tra l'altro, io cito sempre, un libro. Allora, noi siamo giustamente fieri di aver dato i Natali a Beccaria con dei delitti e delle pene. E i delitti e delle pene ha dietro di sé una logica chiara, che quindi è, diciamo così, il diritto sanzionatorio. A un crimine corrisponde una pena di un certo tipo e quindi c'è chiaramente l'elemento sanzionatorio. E mettiamola così, se l'economia è la scienza delle scelte, si parla di incentivi, quindi io posso incentivare una persona a fare una certa azione o posso disincentivarla. Chiaramente la pena è lo strumento classico di disincentivazione. Però negli anni immediatamente adiacenti alla pubblicazione dei delitti e delle pene, c'era un signore che aveva scritto un pamphlet, e questo signore si chiamava Giacinto Dragonetti, non viene quasi mai citato, almeno neanche al liceo viene citato, che invece scrisse un pamphlet delle virtù e dei premi, perché aveva giustamente, a mio modo di vedere, preso in considerazione l'altro lato della medaglia, cioè il diritto premiale. E il diritto premiale ce l'avevano anche gli antichi romani, quindi sostanzialmente non soltanto sanzionare una pena, ma anche premiare la virtù. Faccio un esempio immediatamente che si aggancia anche poi al tema del mio libro, che sostanzialmente fa riferimento all'approccio dell'economia comportamentale, quindi che studia il comportamento del consumatore, ma degli agenti, sul campo, e quindi osservando il vero comportamento. Anni fa, con alcuni colleghi, avevamo provato a Trento a studiare l'effetto di quelle che venivano chiamate multe positive. La città di Trento è una città molto interessante, perché ha tutta una serie di sperimentazioni assai curiose e interessanti. Poi in realtà non siamo riusciti a fare una pubblicazione di quel lavoro, però era stato settato un esperimento che voleva verificare l'effetto del diritto premiale. La città di Trento sostanzialmente cosa aveva fatto? Aveva pensato di aggiungere, oltre al classico vigile che si muove e fa le multe a chi non rispetta il semaforo, non si ferma sulle strisce pedonali, il diritto premiale. Quindi le multe positive dovevano mettere in gioco dei vigili che in qualche modo davano delle multe positive. Cioè se aiuto qualcuno ad attraversare una strada, se faccio qualcosa di corretto, il vigile di turno doveva fermare alla persona e dare una multa positiva, la quale multa avrebbe dato luogo a un premio che non era un premio di natura monetaria, sostanzialmente era un premio e alla fine dell'anno sarebbe stata nominata la persona più positiva dal punto di vista del comportamento civico e poi in radio ci sarebbe stata una sorta di gratificazione. Quindi la dimensione della riconoscenza a volte porta con sé creazione di valore attraverso la gratificazione. Grazie a tutti.